I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Treviso, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a una misura cautelare messa nei confronti di 11 soggetti ritenuti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti mediante l'uso di esplosivi in danno di istituti di credito uffici postali del Triveneto. Si ritiene che l'organizzazione potesse contare su una base logistica operativa in provincia di Treviso dalla quale partire per compiere le proprie scorrerie e di un garage dove custodire una berlina di grossa cilindrata utilizzata per gli spostamenti del gruppo criminale. I colpi, una quindicina, hanno fruttato dei bottini oscillanti tra i 35.000 e i 60.000 euro.